E lunedì 6 dicembre, buongiorno, è il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemulise, l'aggiornamento con i dati del Covid in regione, emerge un dato 13 ricoverati con Covid su 15, non sono vaccinati, è quanto emerge dall'ultimo bollettino della ASREM, un solo positivo su 5 e 53 invece sono i guariti, un nuovo ricovero intanto da oggi, le nuove regole per quanto riguarda il Green Pass. Sentiamo Tonino Danese. Un solo positivo su 121 tamponi refertati, si tratta di una persona di Montorio nei Frentani, c'è anche un nuovo ricovero in malattie infettive da Guglionesi. Al Cardarelli i pazienti in cura con Covid salgono così a 15 uno in terapia intensiva, 13 di loro non sono vaccinati, 53 nuovi guariti di cui 28 diserni, è il quadro che emerge dall'ultimo bollettino dell'ASREM, non ci sono decessi né dimessi dall'ospedale, il tasso di positività è allo 0,8%, sono 340 gli attualmente positivi in Molise. Per quanto riguarda le terze dosi, si va spediti verso le 56.000 somministrate e le richieste per le prime continuano anche perché la settimana inizia con nuove regole, soprattutto per i non vaccinati, fino al 15 gennaio con il certificato verde rafforzato. Il Green Pass in Italia si sdoppia, ci sarà il cosiddetto Super Green Pass, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, è quello base per chi si sottopone a un tampone molecolare valido per 72 ore o antigenico per 48 ore, utile tra l'altro per recarsi al lavoro o utilizzare i mezzi pubblici. Il Super Green Pass sarà adottato anche in zona bianca, per una serie di attività, bar, ristoranti al chiuso, spettacoli, feste e discoteche servirà il vaccino mentre per recarsi al lavoro dunque sarà sufficiente il tampone. Per andare in palestra e piscina basterà il Green Pass base, ma se la regione passerà in zona gialla servirà il Super Green Pass. Anche per soggiornare in hotel o consumare pasti all'interno della struttura basta la certificazione verde base. Battesimi, matrimoni, comunioni e altri eventi che seguono cerimonie civili e religiose sono esclusi dalle attività per cui è richiesto il Super Green Pass. C'è dunque l'obbligo di Green Pass sui mezzi di trasporto pubblico locale e quelli di media e lunga percorrenza. Sull'intera rete ferroviaria e per i mezzi pubblici resta sufficiente la certificazione verde semplice. Chi possiede già un Green Pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione perché sarà l'app Verifica C19 a riconoscerne la validità. Dal 15 dicembre la durata di validità viene ridotta a nove mesi. Ed è tutto per il nostro TG del mattino. La nostra rassegna stampa adesso che iniziamo andando a vedere i titoli sulla prima pagina di primo piano in edicola oggi. Allora l'apertura è questa, area medica piena, pronto il reparto del quinto piano. Al Cardarelli di Campobasso un'altra Novax, posti ordinari, ultimati, riattivati gli spazi chiusi prima dell'estate. Il punto di Sergio Genovese è metropolitane non solo, la Corte dei Conti vigili. E poi da Isernia, dentro la notizia provinciale lista esclusa, oggi il verdetto del Tar, Galeotto fu ritardo di Scarano d'Agnone, monaciglioni più forte della guerra e del Covid, paese in festa per i cento anni di nonna Carmela. Poi vediamo il bollettino della Asrem, un contagio e 53 guariti, il tasso crolla allo 0,8%, un anno fa invece 6 decessi e 52 positivi, in intensiva 9 pazienti. E poi anche su primo piano, Morise, troviamo le nuove regole. È il giorno dell'esordio del Super Green Pass, ecco cosa cambia e quanto esibirlo. Novità pure per lo shopping nei centri commerciali. Sicuro, verde e sociale, Palazzo Vitale, stanzia 14 milioni per riqualificare gli immobili di edilizia residenziale pubblica, avviso rivolto a comuni e gli ACP. E poi ci sono i titoli di sport con il Campobasso. Ancora K.O. i Lupi servono rinforzi. Campobasso colpito ed affondato nel suo momento migliore. Lacune evidenti. Ennesimo scontro diretto perso. La Vibonese esulta nel finale 2 a 0, sconfritti. I rosso-blu. Per il Vasso Girardi, gli alto molisani superati 4 a 2 sul difficile campo di Fiuggi. Eccellenza, invece, l'isenia cade ad agnone. Il termolino sbaglia un colpo. Basket, la Magnolia battuta a testa altra contro la corazzata Schio. Vediamo adesso i giornali nazionali. Partendo oggi dalla prima di Repubblica, l'apertura, la svolta europea sui rider devono essere assunti. Mercoledì, la Commissione dell'Unione Europea vara il pacchetto lavoro. Quello per le piattaforme digitali sarà considerato subordinato. In Italia, intanto, la pandemia ha raddoppiato. Gli invisibili sono 1,5 milioni. Il virus fra i neonati del Covid, che lottano per la vita, l'articolo a firma di Alessandra Ziniti, dove nasce il pensiero magico. L'articolo a firma, invece, di Ezio Mauro. E poi c'è questa notizia che arriva dalla Francia con foto. Zemmour lancia la riconquista. Questo è il nome del suo partito. Scontri al comizio, anti-migranti, candidato alle presidenziali. E poi il Papa in visita in Grecia, il Papa fra i rifugiati di Lesbo, naufragio di civiltà da fermare. Vedete l'abbraccio tra Papa Francesco e un profugo sull'isola di Lesbo. Dalla Repubblica passiamo alla prima del Fatto Quotidiano. Questa è l'apertura. Superpassi il buco degli hotel, regione ritirata sui controlli. Oggi al via il rigorista Fedriga, Giacchi e Dederuche per gli studenti sui bus. Poi c'è il fatto economico, l'uso dei dati e il digitale. I regali della Unione Europea agli Stati. E sotto la testata leggiamo questi titoli. Tensione di governo, Franco, Lamorgese, Bianchi e Compagni. Draghi, litiga con i migliori. L'inchiesta media parte tutti i milioni buttati dall'Unione Europea per gli aiuti nel Sahel. Oggi, quest'altro titolo, la squadra del Movimento 5 Stelle. Conte è tentato di candidarsi per la Camera. E poi il professor Teanopoulos. Nella pandemia non si governa utilizzando la paura. Questi i titoli principali del fatto quotidiano. Vediamo anche quelli di Libero. Apertura a tutta pagina. Miracolo. Aumentano le pensioni. Da gennaio assegni più corposi. L'inflazione ha un effetto positivo. Rivalutazioni dell'1,7%. Ecco gli incrementi fascia per fascia. Intanto il governo tassa il volontariato. C'è l'IVA sulla solidarietà. Gianluca Veneziani firma questo articolo. L'omicidio razzista indigna meno della pacca sul sedere. Davide Giri ucciso a New York, lo studente italiano. E poi l'avvocato senza popolo, in riferimento a Conte, che non ha un voto. E mette becco su tutto, firma l'articolo Vittorio Feltri. Ancora, parla Minoli, troppi giornalisti responsabili. Dice appunto il giornalista. Parla invece Fedriga, il governatore, la Lega e Sivax. Noi governatori battiamo il Covid. Da libero andiamo a vedere allora i titoli sulla prima pagina del Sole 24 ore. Nell'edizione del lunedì questi approfondimenti. Fondo perduto, aiuti anti-Covid. La partita chiude a 26,5 miliardi. E poi così IRPEF più leggera per i pensionati. E la riforma del fisco. E debutta oggi il Super Green Pass. Anche sul Sole, doppio binario per il certificato verde. Istruzioni per l'uso e sanzioni. Si parla anche di scuola più tempo pieno. Con mense e palestre. E vediamo ancora transizione green. Nucleare sì o no. L'Europa decide sulle categorie di energia pulita. Questi dunque i titoli del Sole 24 ore. Adesso il Corriere della Sera. Andiamo a leggere l'apertura. Green Pass, tutte le misure. Virus, lavoro, trasporti, tempo libero. Da oggi in vigore la carta rafforzata. Salgono i ricoveri, nuove regole e controlli. Corsa ai vaccini con le terze dosi. Calano i no-vax. Poi c'è il fondo a firma di Gian Antonio Stella. Sui parchi si può fare di più. Leggiamo ancora il retroscena di Antonio Polito. La cosa centrista che non dispiace ai leader di Lega e Partito Democratico. Poi c'è questo fatto. Così in treno mi hanno bloccato e poi violentato. Ragazza aggredita a Varese. Due fermi. È accaduto venerdì sera nel vagone di un treno. Appunto a Varese. Vediamo adesso anche la verità. Il titolo di apertura è questo. Un altro giro di Apartheid. Manda il turismo a picco. Oggi parte l'era del super Green Pass. Ma che strumento di libertà per non chiudere. Le restrizioni per milioni di italiani non sono inutili, ma già devastanti sul piano. Non solo inutili, ma già devastanti sul piano economico. Agenzie di viaggi, città d'arte e settore neve sono in ginocchio per le disdette. Questa è la lettura della verità nel primo giorno del super Green Pass. Poi c'è il fondo a firma di Maurizio Belpietro. Scuola e company. Il governo si sveglia in ritardo. Parla il virologo Andrea Crisanti. Troppe fake di Stato e sui bambini serve più prudenza, dice. A centro pagina, il tutto fare di Draghi era regista alla Leopolda. Nelle carte di Open e le scambi fra Giorgio Corri ed Antonio Fucinello, ora capo di gabinetto del Premier. Il primo chiedeva nomi per gli ospiti dell'evento renziano. Il secondo rispondeva ed organizzava tutto. Dunque questo è l'approfondimento sulla verità. Vediamo anche il tempo di Roma. Tutta pagina, il titolo, l'ora del centro-destra. Basta divisione Baruffe, inizia la partita decisiva che Berlusconi, Salvini e Meloni non hanno potuto mai giocare. Trotti, il social di Trump ha già un miliardo da parte. E poi gli altri titoli. Velletaro cercare in politica un centro che non c'è più. Velletaro dunque il tentativo di Mastella. E poi il presidente di noi con l'Italia Lupi, moderati, determinati ma troppo frammentati. Green Pass da oggi le nuove regole. Anche sul tempo obbligatorio, anche per prendere il bus. Ieri raffica di controlli per lo shopping in centro. Ovviamente si parla di Roma. Vediamo anche i titoli del secolo d'Italia. Meloni contro Monti, offende il popolo italiano. È l'editoriale a firma di Walter delle Donne. E poi in primo piano, oggi a Roma parte Atreiu. È il Natale dei conservatori. Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia litigano sul caro Bollette, ma sarà stangata. E poi l'addio a Tony Sant'Agata, cantautore e cabarettista. La sua morte nella giornata di ieri. Chiudiamo la rassegna dei quotidiani con la gazzetta dello Sport. Firmiamo l'Inter sposa Inzaghi. Il club conquistato da Simone pensa al rinnovo fino al 2025. In base ai nuovi, ai buoni risultati. Poi Ibra, casa sponda Milan, ma lo scudetto sarà mio. Derby da titolo, la capolista Milan. E poi sotto la testata, Ancolo Quadrato. La Juve scaccia guai, Genoa battuto. Il colombiano segna da corner. Di Balascio frena sul contratto. Ancora una goggia da record. Regina Sofia, tre vittorie in tre giorni. Siamo allo sci, siamo qui invece alla Formula 1 thriller. Così titola la gazzetta. Max e Lewis Ring a pari merito all'ultimo Gran Premio. Ghedda ad Hamilton, ora Abu Dhabi. I due campioni di Formula 1 sono a pari punti. E c'è solo l'ultima gara decisiva. Poi c'è l'analisi, le prime quattro e la rinascita del gioco. In alto vedete a sinistra, a firma di Luigi Garlando. Ecco la gazzetta sportiva. Chiudiamo la rassegna dei quotidiani. Adesso linea la regia con gli highlights della nostra redazione sportiva. 17esima giornata nel girone C di Lega Pro. Catanzaro Foggia 2-0, Vibonese Campobasso 2-0, Latina Catania 1-0, Fidelissandria Picerno 2-3, Francavilla Monterosi 1-0, Paganese Juve Stabia 3-1, Potenza Turris 0-0, Taranto Messina 0-0. I posticipi sono Palermo Monopoli ed Avellino Bari. Alla luce di questi risultati, classifica del girone C di Lega Pro in testa il Bari a 36 punti, segue il Monopoli a 30, Palermo e Turris 29, Catanzaro 28, Avellino e Francavilla 27, Foggia e Taranto 24, Piacerno 23, Juve Stabia 22, Catania Latina e Paganese a 20, Campobasso 18, Monterosi 16, Potenza 15, così come l'A. Fidelissandria chiudono a 13 punti, Messina e Vibonese. I Lupi perdono 2-0 in trasferta contro la Vibonese, una gara che fa sicuramente male al morale e alla classifica del Campobasso. I gol nel finale all'ottantottesimo, il destro da fuori area Diciotti, davvero bella la conclusione del giocatore della Vibonese, non può arrivare Raccichini. Nel finale arriva il 2-0 al novantaquattresimo, Ngom crede in un pallone defilato e riesce a battere Raccichini, Vibonese 2, Campobasso 0. I risultati della Serie D Girone F, dodicesima giornata. Ricanatese-Vastese 2-0, Trastevere-Fano 3-1, Fiuggi-Vasto Girardi 4-2, Aurora Alto-Casertano-Castelfidardo 0-1, Montegiorgio-Chieti 0-2, Nereto-Portodascoli 1-2, Pineto-Matese 0-0, San Benedettese-Castelnuovo-Vomano 2-0. Stesso risultato per Tolentino-Notaresco. Passiamo alla graduatoria del raggruppamento F di Serie D, in testa ancora il Trastevere a quota 30 punti, segue la Recanatese a 27, Fiuggi 25, Portodascoli 21, Notaresco e Castelfidardo 20, Pineto e Tolentino 19, Matese 17, Vasto Girardi 15, Castelnuovo-Vomano e Chieti a 14, Fano 12, Vastese e San Benedettese 11, Montegiorgio 10, Nereto 5. Ferma a due punti in fondo alla classifica, Aurora Alto-Casertano. E veniamo ai tornei regionali, partiamo dalla tredicesima giornata in eccellenza, Sesto Campano-Campobasso 1919-1-0, Altilia-Samnium, Campo di Pietra 0-7, Aurora-Ururi-Venafro 2-2, Boiano-Gambatesa 2-1, Castel di Sangro-Volturnia 0-2, Cliternina-Termoli 1920-0-3, Olimpiagnonese-Isernia 3-1 e Pietra-Montegorvino-Real-Guglionesi 1-4. Classifica del massimo torneo regionale, si conferma in testa il Termoli a 37 punti, segue il Campo di Pietra, Vicecapolista 31 e l'Olimpiagnonese a 30, Venafro ed Isernia entrambe a 26 punti, Aurora-Ururi 25, Guglionesi e Sesto Campano a 21, Boiano 16, Pietra-Montegorvino 15, Campobasso 1919-12, Gambatesa e Volturnia 10, Castel di Sangro 9, Cliternina 8, chiude a 3 punti l'Altilia-Samnium. Al 31esimo del primo tempo, scivola amoroso in un disimpegno, Darapace Picozzi si avventa sul pallone, ne approfitta e segna l'1-0 per l'Olimpiagnonese, la replica del raddoppio al 36esimo affidata ad Antonelli che parte dalla trequarti e supera il portiere in uscita, 2-0 ad inizio ripresa, esattamente all'ottavo, Mingione, di mezzo allo svantaggio, siamo sulla parziale di 1-2 e al 62esimo muro di Vallefuoco, sulla bordata di Antonelli si cordina scorza, alla sua prodezza vale il definitivo 3-1 tra l'Olimpiagnonese e di la città di Isernia. Il termo ripassa al TSA Stadium imponendosi per 3-0, vantaggio della capolista alla mezz'ora il cross da parte Scognamiglio, si gira bene in area di Filippo che controlla e scarica in rete il gol del vantaggio per gli Adriatici. Termoli che trova il 2-0 esattamente al minuto numero 34 sul lancio in profondità di Conte Lorusso che mette su un piatto d'argento per il capitano di Filippo l'assist per il 2-0. Proprio allo scadere al tramonto dei 90 minuti Ciancagliene recupera un buon pallone, l'offre su un piatto d'argento al nuovo entrato di Costanzo il controllo con il Mancino, la conclusione vincente in diagonale per il Termolese, Termoli che batte la Criterlina per 3-0. Finisce 2-2 al Fiorilli tra Ururi e Venafro dopo una gara intensa e spettacolare. Passano in vantaggio gli ospiti al quarto della ripresa con Bravaccini che concretizza alla perfezione questo schema su calcio piazzato. Il parigio del padrone di casa arriva con Ciliberti con questo tiro preciso dall'interno dell'area di rigore. I padroni di casa completano la rimonta con Marino che dalla distanza trova il tiro di Ciliberti. l'angolo giusto per il 2-1. Il pareggio è opera di Napoletano che nel finale trasforma dagli 11 metri il suo 22esimo centro stagionale. Boiano Gambatesa termina 2-1 per il Boiano. Al trentesimo 1-0 la sblocca Mauriello su assist perfetto di Paduano con questo destro all'incrocio. 1-0 Boiano. All'undicesimo del secondo tempo pareggia Fabio Ruggero con questa punizione perfetta col sinistro che buca al tiro e fa 1-1. Al venticinquesimo arriva il 2-1 di Assante che in scivolata batte il portiere. Vince il Boiano 2-1 e si porta a 16 punti per il Gambatesa che a poco rimane a quota 10 punti. di promozione, risultati anche in questo caso della tredicesima giornata. Termoli 2016 Campomarino 1-3, Ripa Limosani Virtus Gioiese 3-3, Trivento San Pietro in Valle 0-2, A Isernia Fraterna Don Chesagnone 2-1, Guardia Alfiera Spinete 2-0, Petacciato Juvenes 4-0, Torre Maggiore Turris 0-1 e Baranello Maronea 2-0. E chiudiamo con la classifica del campionato di promozione. In testa a pari merito a quota 29 punti Campomarino Virtus Gioiese e Petacciato. Segue a 28 il San Pietro in Valle, Turris 25, Termoli 2016-24, Ripa Limosani 23, Baranello 18, Trivento 17, A Isernia Fraterna 16, Spinete 14, Maronea 11, Guardia Alfiera 9, Don Chesagnone 7, Juvenes 6, chiude a 4 punti il Torre Maggiore. Baranello 2-2, Maronea 0. Al tredicesimo del primo tempo, gol di Colalillo, parte il cross di Venditti, recepito da Zurlo e successivamente il numero 9, col tocco destro, ad inserire in rete e sbloccare il risultato. Al ventitresimo del secondo tempo arriva il secondo gol per i padroni di casa, punizione dal limite dell'aria sul punto di battuta c'è Zurlo, che trafigge Roberti con una imprendibile diagonale. Baranello 2, Maronea 0. Ed è tutto per il nostro Tg del mattino, grazie a Donato Mignogne Regia, l'appuntamento con la nostra informazione torna alle ore 14 con il telegiornale. A voi tutte e tutti, buona giornata. Grazie a Donato Mignogne Regia,